Oggi si ricordano all'Aquila con tante iniziative le sei vittime dell'incidente dell'elisoccorso di Monte Cefalone. È il sesto anniversario della tragedia che ha lasciato la città sgomenta. Il 24 gennaio del 2017 l'elicottero che aveva a bordo i soccorritori chiamati ad effettuare un intervento di soccorso a Campo Felice si schiantò contro una roccia a causa della fitta nebbia. Persero la vita i cinque operatori eppure lo sciatore soccorso sulle piste. Il medico Walter Bucci, l'infermiere Giuseppe Serpetti, sanitari del 118 del San Salvatore, il tecnico di bordo Mario Matrella, il tecnico del soccorso alpino Davide De Carolis, il pilota Gianmarco Zavoli e il paziente soccorso Ettore Palanca. Sono le vittime di una tragedia che è ancora impressa nella memoria collettiva all'Aquila e che non smette di far male. Messa a suffragio, fiaccolata sulle piste e altre iniziative all'Università dell'Accademia Medica per ricordare queste persone che al di là del lavoro, del soccorso e dell'aiuto avevano fatto la loro missione di vita. A ricordarle al professor Franco Marinangeli, primario di anestesia e rianimazione, referente per le emergenze della regione Abruzzo. Erano innanzitutto degli amici, con Walter Bucci eravamo amici di infanzia, nati nello stesso paese e con Peppe Serpetti abbiamo lavorato per tanti anni proprio nell'isoccorso, quindi il ricordo è indelebile, questo è il motivo per cui fin dall'inizio io stesso organizzai un memorial al primo anno e poi promisi di fare ogni anno un evento in ricordo loro. Abbiamo fatto molto di più perché in realtà loro abbiamo intitolato anche un centro di formazione all'interno dell'Università e quindi anche oggi li commemoreremo nella maniera più adeguata e anzi io spero anche negli anni prossimi di fare iniziative più importanti perché loro rappresentano sicuramente diciamo persone che hanno dato tanto aiuto alle persone e tanto alla sanità, sono quindi degli esempi un po' da seguire, ma questo mi preme dirlo, devono essere anche di esempio per cercare sempre di più di trovare, di costruire percorsi sicuri all'interno dei luoghi di lavoro perché quella in fondo è stata una morte in un luogo di lavoro se ci pensiamo e quindi è importantissimo che noi su questo lavoriamo a tutto campo.